. 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 tanti passi dentro 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 Terra oh è da me l'ultimo oh ma veni veni aiuta vieni veni aiuta vieni 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 e là dentro e là dentro e là dentro è là dentro rai white ce la farai posso rarci cosa non svegliamo no regà non è neanche quattro arrivo un minuto mi hanno beccato ragazzi qua è morto è morto oh Cristo Dio a quest'arma di merda che stanno a parterra, non fanno niente di danno e ancora? Ma che cazzo è? ma è pena l'era qua tanto pazzi fa dire è la mappa è quella per me si ragazzi laggiù il giugno vera e i ping rossi il giugno vera è un bel amulo il tuo compagno ha perso, non lo rivedrai più si 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 aspetta dove resta resta l'ultima cazza forte ping raga resta quello laggiù resta quello laggiù resta quello laggiù ah dai ah dai ah dai è il shadow shadow qua qua non spararmi eh eh lì adesso quello sono fatto la cosa del bancho l'ho trasferito qua dietro la giugno wow так tra più cosa aiuto è una piastra егle subito va via a prendere la varme è una cassa pro te mi trovo eh però c'è gente vera cazzo eh questa è una reale eh questa è una reale guarda tira raga ah no dentro la casa ok io salgo su sta casa eh dentro quella casa di merda secondo piano decisamente è uno uav nemico attivo attacco aeree o alleato arriva all'altro da lontano me bio sto attaccando l'ho attaccando pass raga ma dove è stop ah che cassa la bar ecco qua chi sopravvive si guadagna un limito è la tipo è la io proprio te col cecchino in giro e io lo stavo vedendo il cazzo a terra vedo dall'ovv ah no quello lì si è è un parametro raga io lo tiro vai richiedo attacco bersaglio marcato raga guardami l'ha freccato uno raga guardami l'ha freccato uno raga guardami l'ha freccato uno c'è gente c'è gente c'è gente si vedono colpi arriva gente arriva gente vabbè all'avanzo è quello vabbè all'avanzo è quello cazzo andiamo 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 eh da solo regalo sotto le piazza vabbè se andiamo scapperà subito questo e dove vabbè vabbè non si le inchiute scappa in basso eh eh suca dove sta un ping un ping un ping eh no eh tu sei in marta eh eh ma è un team è un team raga flanco io flanco non mi guardo tutto raga c'è il cieco io ho spazzata che sta fuori incontro dall'aria se ne sono andati mi sa dite forse no secondo me no basta che muovevi vabbè vabbè no ma se ne sono andati se ne sono andati hanno visto il bombard vedete se li vedo no no se ne sono andati qui che vedo se sono andati allo shop forse eccoli infatti si si shop sono si si allo shop morta 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 ah è lì 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 vabbè regalo vabbè regalo in giocando in giocando bene in giocando bene da qua infatti mi sa vissero il limita si si vado qui in azienda in giocano nemico marcato ecco lo applica oh rega aspettate mi sto arrivando traffato io l'ho traccato quello eh a sinistra corazze tolta, quello lo giro mi metto ah c'è un cecco qua? non siamo tanto aperti l'ho pingato qua arriva traccato questo qua traccato questo qua pingato aiutatemi qua arrivo arrivo l'ho craccato eh ha girato in modo l'ho craccato l'ho craccato l'ho craccato l'ho craccato l'ho craccato l'ho craccato la zona sicura è molto distante non c'è tempo da perdere oh sei guarda l'ho craccato sanno lo giusto eccolo lì dove sei? l'ho craccato l'ho craccato va giù non c'è ne ha più da usso colongare un sort l'ho craccato come sempre come sempre no alla fine come sempre a me la stanza mostra questo non sopra di venute restiamo tranquilli il barbara con la via avanzata per la stagione se non ciao ecco spostate un posto ea che non lo sento la famissima questa è la stessa ma io mi sposterei la sopra tipo oh lì non te lo cecchino non gli sparo te lo faccio cecchino sta lì ah vabbè su quel palazzo per non avvertirti cioè che non fai gredito no vabbè se c'è il cecchino la sbutta e la cittina da fine video ok ok il sd ok non ci vediamo come stai e la cosa che mi piace da me ma scendete 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 ragazzi non mi farei shadowfair non so e che figlio bianco mi spostava tutto percibacquare cosa che è oi oh ma io ho tutta la maschera o perchè mi muore e tipo che cazzo è eh perchè se stai per metterli due cazzo non ci puoi metterlo eh brah eh vabbè io mi faccio la niente venite qua venite qua a terra uno a terra uno a terra uno raga non mi prendi di dedici state assieme un coglione aiutatemi raga 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 da destra da destra c'eri qui da destra c'eri qui da destra c'eri qui da qua c'ha la safe c'è la safe c'è la safe c'è la safe e c'è la laschetta tu vamo ea me ha sposto qua sopra 3 giù 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 che che merda di casa che casa di merda che ho scelto tutte io le vado a scegliere le case aspetta che c'è l'altra maschera io cristo signora addio niente dai ahhh era vivo qua era vivo vabbè dai gg